Bene, grazie, ben ritrovati e intanto prima di dare la parola a Dario Boni per la relazione introduttiva, volevamo ringraziare tutte le strutture per il lavoro svolto sul territorio, dall'analisi dei verbali risulta un lavoro anche capillare, abbiamo raggiunto anche cantieri con pochissime persone e questo a riprova del lavoro unitario fatto e anche però della parcellizzazione del nostro settore. Vi do un paio di dati, abbiamo fatto all'incirca 2.600 assemblee raggiungendo circa 40.000 lavoratori, ma questo è il dato a ieri pomeriggio, ieri sono arrivati altri verbali per cui è un dato approssimato per difetto e abbiamo sostanzialmente avuto un'approvazione del testo della piattaforma intorno al 90%. Nei verbali abbiamo anche recepito alcuni suggerimenti che sicuramente la delegazione trattante porterà durante la discussione della piattaforma stessa con tutte le controparti e diciamo che i suggerimenti che venivano riguardavano più che altro i fenomeni del lavoro grigio e del lavoro nero e anche sulla nuova rimodulazione del DURC. Penso appunto che questo sarà compito delle segreterie, reinserirlo e rincastronarlo nella piattaforma che abbiamo discusso fino ad oggi, ma per ulteriori cose do la parola appunto a Dario Boni della segreteria nazionale della fila GGL per la relazione introduttiva. Grazie Dario. Grazie, un saluto a tutti. Io direi prima di iniziare la relazione con soddisfazione, quindi farei un applauso ai compagni che sono stati impegnati in questa difficile trattativa. Il rinnovo del contratto del Lapidei è avvenuto ieri, quindi un fatto positivo e che è anche un buon auspicio varare la piattaforma nel giorno che è stato sottoscritto l'ennesimo contratto del settore delle costruzioni. Care compagnie e amiche, cari compagni e amici, il mio saluto cordiale a tutti voi. Ascoltando colleghi più illuminati di me ho imparato ad iniziare le relazioni individuando il contesto dal punto di vista dei numeri. E oggi il contesto che voglio delineare è quello dell'altra metà del tavolo, coloro che siederanno di fronte a noi. Partiamo dal settore delle costruzioni, 80 associazioni di settore, 30.000 imprese affiliate, 2.700.000 occupati, 400 miliardi di fatturato, di cui la metà in edilizia. L'edilizia sono 1.400.000 addetti, 650.000 registrati dal sistema delle casse di litra, operai e impiegati, per quasi 5 miliardi di massasalari. La produzione, calata di 12 punti dal 2009 al 2014, ora è in crescita di un punto sul 2015. Sono solo pochi dati, ma sufficienti per capire la consistenza del settore in questo momento. Il 9 giugno scorso, sempre da questa sala, abbiamo dato il via alla consultazione dei lavoratori sulla piattaforma del contratto dell'edilizia 2016-2019, che la stessa Assemblea Nazionale dei Quadri dei Delegati, a chiusura dei lavori di quella giornata, aveva approvato. L'inizio di un percorso impegnativo, che sappiamo ci vedrà impegnati in un difficile confronto con tutte le nostre controparti, con l'ambizione, abbiamo detto e scritto, di cercare di avere un unico contratto di settore, in un unico sistema dell'edilizia. Ora, dopo la positiva consultazione con i lavoratori, nelle assemblee, negli attivi provinciali e regionali, nel contatto quotidiano, spesso nel porta a porta di cantiere, come tradizione del sindacato dell'edilizia, a causa della difficoltà di tenere insieme la nostra rappresentanza sui posti di lavoro, per via della frammentazione caratteristica del comparto. Ora, dicevo, è venuto il momento di avviare il confronto con i costruttori, mettendo sul piatto le nostre decisioni, le nostre coerenze, le nostre scelte, perché ora esse sono le decisioni, le coerenze, le scelte dei lavoratori, che con orgoglio rappresentiamo. Nel cammino che ci ha prestato che stiamo ad affrontare, più o meno lungo, vedremo. La piattaforma approvata dai lavoratori resterà il punto di riferimento della nostra azione ai tavoli di rinnovo. Questo vincolo sarà la nostra forza, questo vincolo sarà il collante dell'unità sindacale che ci ha ispirato e guidato nel lungo e faticoso lavoro di questi mesi. La condivisione degli obiettivi ci renderà più forti, questo è importante. Noi sappiamo di partire in vantaggio sulle nostre controparti, perché il cammino comune di questi anni, non nascondendo difficoltà e differenze, l'ipocrisia non ci deve appartenere. Non è lo stesso dei costruttori. Ance, artigiani, cop, confimi e confapi, divisi e litigiosi, tra di loro e al proprio interno, hanno fatto fallire gli obiettivi che ci eravamo dati lo scorso contratto nazionale. La riorganizzazione degli enti, la messa in sicurezza del sistema è fallita per responsabilità dei costruttori, non certamente nostra. I tavoli di coordinamento regionali non sono stati avviati, i piani industriali sono pochissimi, la stagione contrattuale di secondo livello non è stata praticamente esercitata. Il sistema bilaterale delle costruzioni nazionali non esiste. L'unica vera realizzazione, quella sì che con orgoglio rivendichiamo e ci ascriviamo, è la messa in sicurezza dell'APE. Non è stato semplice, il percorso è stato tutto in salita. Abbiamo armonizzato tutti i contratti nazionali. L'APE 2016 è stata pagata dal nuovo sistema ancora incompleto, se vogliamo, ma estremamente efficiente. Aggettivo che non uso a caso. Tanta ancora c'è da fare su questo capitolo. La Commissione nazionale sta lavorando. Il 5 luglio si riunirà nuovamente. Lavoreremo per aggiustare storture e ingiustizie. Vigileremo su localismi, su feudalesimi, sugli inutili autonomismi ancora presenti. L'APE è un importante banco di prova, è un esempio di come le riforme del sistema non saranno la trincea dove le nostre controparti potranno schierarsi insieme al sindacato. Feneal, Filch e Fillea sono la parte forte del sistema, insieme ai lavoratori. Dobbiamo assumerne maggiore consapevolezza. Insieme rappresentiamo il 65% dei lavoratori delle costruzioni. Sono i nostri associati. Chiediamoci piuttosto quante imprese associate rappresentano le nostre controparti. Conosciamo la risposta non entusiasmante. Guidare l'innovazione e accompagnarla con la necessaria evoluzione contrattuale deve continuare ad essere il nostro orizzonte rivendicativo, oggi più forte con la nostra piattaforma, non solo come vincolo di mandato, ma per scelta, perché ci crediamo. Ripartire dal lavoro, ripartire dal cantiere, per riunificare la frammentazione e il lavoro. Ripartire dai lavoratori, questa è la strada che vogliamo intraprendere per definire i percorsi della contrattazione e poi conseguentemente i percorsi della bilateralità. Ecco allora la scelta di rivendicare l'aumento del contributo Cassedile al 3%. Su questo punto è bene ribadire che una mutualità che non eroga assistenze ai servizi perché schiacciata dai costi di gestione del personale è una mutualità che non risponde ai suoi scopi originali. La scelta sofferta di abbassare il contributo al 2,5% è stata fatta nel precedente contratto nazionale per riorganizzare il sistema e renderlo sostenibile. Di pari passo con la riduzione del contributo dovevano partire i tavoli di coordinamento regionali ai quali era destinato il compito di ridisegnare il bilateralismo su scala pluriprovinciale o regionale. Gli accorpamenti dovevano generare quell'economia di scala utile a dare risposte contraendo le entrate. Così non è stato. La responsabilità va interamente scritta all'ance, incapace di organizzare un proprio livello regionale rappresentativo e forte. È altrettanto vero che dietro questa contraddizione, in alcune realtà, ci siamo nascosti anche noi, ma globalmente un ance nazionale debole ha dialogato con strutture regionali ance deboli che allora volta dialogavano con strutture territoriale ance forti, che non riconoscevano alle rispettive né ruolo né titolarità. Ora è il momento di dire basta. Le scelte sulla titolarità vanno fatte in maniera chiara e stavolta si parte dai bisogni dei lavoratori. Le prestazioni al primo posto, 1% del contributo complessivo con un valore minimo medio che non potrà essere inferiore al consolidato 2015. Con il restante 2% si farà fronte ai costi del personale, ai costi di gestione, ai rimborsi alle imprese. Il tempo della sostenibilità è finito. Siamo ora nell'era dell'efficienza e dell'efficacia. Non devono pagare ancora i lavoratori, le titubanze e le convenienze delle associazioni imprenditoriali, ance in testa, ma non solo. Artigiani, coppe, piccola e media impresa, spesso a rivendicare riconoscimenti contrattuali e soprattutto economici. Non hanno dato l'impressione di essere interlocutori attenti ai bisogni del sistema e dei lavoratori, o perlomeno non così attenti come ai propri bisogni. Per questo nella piattaforma che andiamo a varare ci sono le soluzioni per interpretare i cambiamenti, i nuovi processi produttivi e organizzativi, traducendoli in un sistema di rappresentanza che sia in grado di costruire modalità contrattuali nuove, coraggiose e coerenti. Se ci guardiamo indietro il nostro settore si è dimezzato. Massa salari, addetti, ore, numero di imprese. Arrestata la caduta verticale dobbiamo essere consapevoli che ai livelli precrisi non torneremo più. Il nuovo grande ciclo dell'edilizia annunciato da molti esperti di mercato porterà a disegnare un settore completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto. La frammentazione delle imprese, incapaci di riorganizzarsi attraverso un progetto industriale di settore. Le riforme del mercato del lavoro, le troppe forme di irregolarità, di illegalità, di corruzione, le ricette legate alla semplificazione, il peggioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, la continua sovrapposizione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Con tutto ciò ci dobbiamo misurare ed ancora una volta il nostro sistema di relazioni e il nostro sistema bilaterale dovranno essere strumenti contrattuali per raggiungere obiettivi, non per essere fini a se stessi. La bilateralità è uno strumento, non è il fine, non è banale ricordarlo anche a noi. Nell'autunno del 2014, dando il via alla stagione delle riforme della contrattazione territoriale, utilizzavamo uno slogan di effetto, diamo gambe al contratto. Molto è stato fatto, molte commissioni hanno chiuso i lavori, tanti accordi nazionali sono stati sottoscritti. Piani industriali, regolamento, APE nazionale, trasferta regionale, nuove regole DURC, prevedico per lavoro, fondapi, fondo di solidarietà, ammorizzazioni contrattuali e altro ancora. La nostra capacità di concretizzazione però si è scontrata con le nostre indecisioni e con le volontà delle controparti. Ora basta, non è più tempo. Nella piattaforma indichiamo la strada, prospettiamo soluzioni, ci mettiamo in discussione, mettiamo in discussione la rappresentanza datoriale. Non la mandiamo a dire, il sindacato delle costruzioni è pronto al confronto, alle idee chiare, si vuole misurare nella concretezza. Mentre c'è chi si nasconde dietro l'accordo del 98, noi diciamo è ora di misurarsi, è ora di costruire un sistema unico e partecipato, un sistema inclusivo. Parlando con chiarezza e senza troppi preamboli, ho tutti dentro il nuovo sistema SBC, riconoscendo peso e contratti, oppure non ci sottrarremo a scenari nuovi e diversi, partendo dalla bilateralità. Iniziamo il rinnovo contrattuale in un quadro di instabilità internazionale e nazionale, di accresciute diseguaglianze sociali, discriminazioni nelle tutele sul salario, specie nei soggetti più deboli del mercato a partire dai giovani. La contrattazione per noi rappresenta la sede per trovare soluzioni, perché tutela dei diritti, salario, centralità del lavoro sono affare nostro. Rinnovare il contratto ridisegnando nei confini, ma mantenendo ferme le due articolazioni contrattuali. Prevedere orizzonti inclusivi rispetto al mondo precario e autonomo, che va ricondotto nei limiti della regolarità. Ed ecco svilupparsi intorno a queste coordinate la nostra piattaforma. Il salario, 106 euro al primo livello, nuovi meccanismi per le VR, ma anche previdenza complementare, sostegno al pensionamento anticipato, prestazioni sanitarie integrative. Poi pari opportunità e codici etici, tutele per i lavoratori migranti, ampliamento dei compiti degli RLST e rafforzamento della sicurezza sul lavoro. E ancora mercato del lavoro, dall'apprendistato al matching, dal distacco all'inquadramento, dalle partite IVA agli interventi post-job act, passando per la richiesta di cancellare la vergogna dei voucher. Infine, non possiamo non richiamare le nostre controparti ad un confronto vero sui sistemi del contrasto alle irregolarità e alle illegalità. I fenomeni legati alla malavita organizzata richiedono tavoli di confronto permanenti, atti a gestire le crisi, pensiamo alle tante interdittive, alle aziende sotto sequestro, ai lavoratori e alle loro famiglie, incolpevoli spettatori di questo degrado imprenditoriale. Pensiamo a quanto insieme a controparti consapevoli e attente potremmo fare in termine di argine preventivo rispetto a corruzione e a fenomeni meravitosi. ecco allora il DURC per congruità, la denuncia di cantiere, la perimetrazione contrattuale, il cartellino di riconoscimento rilasciato dalle casse, la limitazione del subappalto, la contrattazione preventiva, la lotta agli infortuni e alle morti sul lavoro. Sono temi che affrontiamo, ma che non dovrebbero essere neppure richiamati in una piattaforma. E se lo sono è perché su questi argomenti c'è ancora tanto da dire e tanto da fare. Concludo. Le assemblee sono andate bene. I lavoratori hanno apprezzato la piattaforma, hanno discusso ponendo l'accento sul salario e sulla sicurezza sul lavoro. Un punto su tutti, il più sentito dai nostri lavoratori. Pensione anticipata e riconoscimento dei lavori usuranti, un banco di prova fondamentale sul quale ci misureranno e misureranno le nostre confederazioni. E ancora, dai territori di Cagliari e dalla Calabria i lavoratori ci chiedono attenzione alla carenza malattia. Da Messina, Catania, dal Molise, dalla Liguria ci chiedono interventi sulle pensioni e sulla legge Fornero, anche attraverso l'inclusione dei lavoratori edili tra i lavori usuranti. Da Milano e Napoli ci chiedono di andare oltre alla richiesta presentata in piattaforma sul fondo pensione anticipata. I lavoratori di Benevento propongono di eliminare il part-time tra gli operai edili. Da molti territori arriva la richiesta di intervento sulle cento ore ape, chiedendoci di aumentarne il tetto. Da Bergamo, perplessità sull'inclusione del sistema delle partite IVA. Ancora da Napoli chiedono uniformità delle prestazioni sul livello regionale, in coerenza con l'introduzione della trasferta regionale. Altri territori chiedono che la previdenza complementare sia versata sui fondi locali o regionali. Altri ancora chiedono siano riviste le tabelle utili alla determinazione del DURC per congruità, ritenute troppo basse. Altri territori importanti, come l'Emilia-Romagna, dove la sensibilità e la conoscenza dei lavoratori sulle questioni della bilateralità sono molto alte, i lavoratori valutano positivamente quanto prodotto dal territorio e osservano con attenzione le evoluzioni che si prospettano. Cito ancora un esempio tra le tante osservazioni che stiamo raccogliendo. Quello dei lavoratori di Caserta, che chiedono l'istituzione di una sorta di mini ape, da corrispondere quando si raggiungono 1.700-1.800 ore. Mi permetto una considerazione. Dai verbali non emergono preoccupazioni se l'ape viene corrisposta dalla locale Cassedile oppure dal Fondo Nazionale. I lavoratori non sono preoccupati se le loro spese odontoiatriche verranno corrisposte dal Fondo Altea piuttosto che da un altro fondo. I lavoratori non sono preoccupati se si accorpano più casse mantenendo il presidio sul territorio. A loro non interessa chi fa il presidente o il vicepresidente della Cassa. I lavoratori vogliono un sistema che eroghi, non un sistema che prosciughi. Di questo dobbiamo tenere conto, specie nel confronto con le nostre controparti. Sicuramente negli interventi che seguiranno meglio saranno evidenziate le criticità gli elementi di positività, oltre a raccontare gli esiti delle Assemblee. A questo riguardo non nascondiamo la soddisfazione per il lavoro svolto. In poco meno di due settimane sono stati consultati oltre 40.000 lavoratori. Le Assemblee sono state più di 2.600, di cui il 34% sui posti di lavoro e il 66% territoriali. La piattaforma è stata approvata con 37.289 voti favorevoli, il 92,5%, e 831 contrari, il 2%. Gli astenuti sono stati 2.204, il 5,5%. Non sono ancora dati definitivi, in quanto continuano a pervenire verbali e continueranno ad essere svolte assemblee. Uno sforzo importante del Sindacato delle Costruzioni, considerata la media addetti per impresa. Uno sforzo che dovrà protrarsi ulteriormente, perché i lavoratori dovranno essere partecipi dello stato del confronto e chiamati a prendere decisioni sugli sviluppi e sugli esiti. Non ci resta che aprire il cantiere, presentare la piattaforma alle nostre controparti, esporre il cartello lavori in corso. Non ci resta che proseguire il lavoro unitario, continuare questo difficile cammino di riforme e cambiamenti, verso la costruzione di un sistema unico e partecipato. E per farlo non ci resta che sintonizzarci sulla stessa lunghezza d'onda. Dobbiamo farlo senza timori. Per questo mi piace chiudere con questa relazione ringraziandovi per l'attenzione con una frase semplice ma efficace di Martin Luther King. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Grazie a tutti.